stavolta ti la manda nessuno sono venuto solo a titolo personale allora potrei anche non rispondere ma non lo farai tu sei troppo sicuro della tua santità io sono solo un povero frate con tutte le migliaia di fanatici che ti seguono e vengono qui a festeggiarti non c'è più niente da festeggiare sapete sto morendo allora questo è il momento di dire la verità e che volete sapere ancora ciò che hai sempre tenuto nascosto la vita per seguitare per cinquanta ancora non grazie grazie grazie